Cresce l'attesa per il gran finale del Rossini Opera Festival. All'evento conclusivo che segnerà il termine della 42esima edizione del ROF, in programma per domenica 22 agosto alle 20.30 in Piazza del Popolo, prenderà parte anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per questo motivo sono già state emesse le ordinanze per blindare il centro storico della città. L'arrivo di Mattarella è previsto poco prima dell'inizio del concerto, ma Piazza del Popolo attiverà limitazioni alla viabilità e all'attività di alcuni esercizi commerciali già nelle ore precedenti all'evento. Proprio le attività del centro storico, nello specifico quelle situate tra le poste e via Gavardini, dovranno rimanere chiuse dalle ore 16 alle ore 24, eccezione patta per i due locali di Piazza del Popolo, con tavoli e spazio esterno, che potranno accogliere i clienti già prenotati, i cui nominativi dovevano essere trasmessi entro la giornata di oggi alle autorità. Negli stessi orari scatterà il divieto di vendita per asporto o di somministrazione di bevande contenute in lattine o vetro. La somministrazione all'aperto di qualsiasi bevando o alimento dovrà avvenire in bicchieri, stoviglie posate usa e getta di carta o di plastica biodegradabile. Le bottiglie di plastica dovranno essere vendute e servite ai tavoli senza tappi. In tutta l'area interessata dalla manifestazione è reso noto poi il divieto per chiunque di utilizzare bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro e di latta. Tra le diverse misure attivate sono presenti anche modifiche alla viabilità del centro storico indicate nelle due ordinanze firmate dalla comandante della polizia locale Francesca Muzzini. La sosta sarà vietata dalle ore 12 alle ore 24 in via Giordano Bruno e piazza Lazzarini, sia all'interno che all'esterno della ZTL. Il divieto negli orari indicati interesserà anche via Pedrotti, Sabatini, Zongo e Barignani, oltre a due brevi tratti in via di Ventura e Levinathan. La fascia oraria in cui sarà interdetta la sosta è anticipata già dalle ore 8 del mattino in Largo Mamiani e naturalmente in Piazza del Popolo, che dalla stessa ora sarà chiusa al traffico. I divieti che riguarderanno invece il transito di tutti i veicoli saranno validi dalle ore 16 e interesseranno Piazza Lazzarini, via Branca, via Almerici e via Pedrotti, Piazza Olivieri, via Sabatini, via Zongo, Largo Mamiani, via Gavardini e via Giordano Bruno. Tra le disposizioni previste anche quella che indica come la parte centrale del parcheggio di Piazza Matteotti dalle 16 fino alle 22.30 sarà riservata all'organizzazione del ROF.